Stefano Riccagno, vicepresidente segno del consorzio dell'Asti Spumante del Moscato d'Asti. Archiviate l'IATP Finals, voi siete stati partner di questo evento e la denominazione ha avuto grande visibilità in questo evento che è stato visto da milioni di persone. È stata una cosa progettata sicuramente, che cosa vi aspettate esattamente da questa grande visibilità? Beh, intanzi tutto ciao Filippo, il consorzio dell'Asti è stato protagonista dell'ATP Finals come sponsor, come civil sponsor dell'ATP, ma siamo un main sponsor, quindi le bollicine dell'Asti del Moscato d'Asti sono main sponsor per quanto riguarda gli ATP Tour, quindi tutte le partite, tutti i tornei che verranno organizzati a partire nell'anno del 2020, quindi a partire da gennaio in poi, in tutto il mondo, gli ATP 250, gli ATP 500 e i 1000, avvedranno le bollicine dell'Asti del Moscato d'Asti, partner ufficiali di questa attività. Quindi è un inizio, è stato un inizio con l'ATP Final, che sono state per Torino un grande evento. Crediamo di essere riusciti a fare un bel lavoro. Sappiamo che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, ma non soltanto noi come consorzio dell'Asti in questo senso, ma anche proprio tutta l'organizzazione, ci sono gli articoli usciti già oggi che parlano in questo senso, perché giustamente si può sempre fare meglio di quello che si è fatto. Torino si è visto che è una città che può assolutamente accogliere queste attività, lo dovrà sempre fare di più, ma soprattutto i vini piemontesi dovranno sempre essere più protagoniste in queste attività. Di fatto l'Asti, in alcune situazioni anche altre denominazioni come attraverso Piemonte e l'Asti sono stati dati i vini per la cena di gala, sono stati partner ufficiali, sono stati presenti, molto presenti negli ATP Final. L'accordo che il consorzio dell'Asti ha fatto è un accordo che durerà tre anni, più abbiamo la possibilità di confermare gli ultimi due anni, che sono sostanzialmente gli anni in cui sono state definite da Torino come città ufficiale per le ATP Final. Quindi la progettualità c'è, il consorzio ci sta lavorando, abbiamo fatto il primo anno e adesso ci stiamo già mettendo all'opera per seguire i prossimi. Senta, bellissimo tutta questa cosa qui, su questo progetto, la denominazione si è vista, le inquadrature alle televisioni ci sono state a livello globale, ecco però questo si tramuterà, domanda terribilissima, è scivolosissima, ma si tramuterà anche in un successo anche di volumi, di vendite e magari anche di prezzo? Una domanda difficile, è assolutamente complicata la risposta, la domanda si può fare e la risposta non è semplice, più che altro nessuno ha la sfera di cristallo, era troppo tempo che con l'Asti Summante e il Mosotto d'Asti come brand istituzionale non eravamo presenti in grandi eventi e quindi questo ci è sembrato il modo giusto con cui rincominciare a fare questa attività. Di sicuro i numeri della denominazione sono positivi, ad oggi abbiamo un 8 milioni in più, quindi diciamo un 10% in più di vendite sul totale dell'anno scorso, vediamo come si confermano i numeri a fine anno, è chiaro che c'è stata anche una certa valorizzazione positiva delle uve della vendemmia appena ultimata, sicuramente motivo di questo sono i mercati che sono positivi e sicuramente anche la qualità dell'uva che non si può negare che quest'anno è stata veramente una gran bella vendemmia. Se questo sarà confermato nel corso degli anni lo sapremo soltanto lavorandoci su, di sicuro è un buon inizio e siamo tutti convinti di portare avanti queste attività uniti. Benissimo il discorso Italia, finalmente l'asti spumante e il moscato d'asti stanno tornando sul mercato italiano, ci sarà anche qualcosa sul mercato estero? Come ti dicevo appunto c'è l'ATP Tour che di fatto è un'attività che può andare a colpire diversi mercati, sull'estero abbiamo intenzione di definire come strategia di comunicazione e di valorizzazione abbiamo voglia di definire alcuni stati nella quale lavorare, alcuni paesi fondamentali, di sicuro la Russia, di sicuro l'America, c'è già un certo lavoro fatto in America sul moscato d'asti con i moscatisti che sono presenti, con la quale appunto si vanno a fare attraverso i PSR o gli OCM o appunto anche i 1144 che dovrebbero essere attività che ripartiranno nel 2022, stiamo aspettando di capire dal Ministero che cosa cosa succederà in questo senso, causa ovviamente il Covid, però l'intenzione è comunque quella di appunto definire, avere come focus pochi, alcuni mercati quindi, e lavorarci per un determinato numero di anni, pensiamo all'Inghilterra e lavorare in Inghilterra per tipo due o tre anni in modo tale da poter veramente dare una certa continuità e vedere qual è il risultato perché non, diciamo crediamo che sia non inutile ma sbagliato andare a fare un po' qualcosa un po' dappertutto quindi l'idea è quella di veramente focalizzarsi su certi mercati, crediamo che ad esempio per un mercato vicino l'Inghilterra può essere una situazione, visto anche i numeri sulla quale lavorare. Ecco, a proposito di lavoro, lei è un esponente della parte agricola, insomma avete finito di litigare tra di voi tutto a posto, c'è questa Pax Moscati che sta imperando, oppure no, cova sotto la cenere? Ma di sicuro la parte agricola deve trovare questa condivisione negli obiettivi e anche nelle forme di presentazione e di comunicazione, ad oggi è così, è un grande lavoro, lo è stato, ma tutti i giorni bisogna comunque, non bisogna assolutamente abbandonare il lavoro anche su quello. Ad oggi c'è una buona condivisione, una buona unità, direi una grande unità, una forte unità, io ci credo molto, con i nostri compagni, con i miei compagni in consiglio, ma non solo, ci confrontiamo quotidianamente, ci si vede, magari non tutti i giorni ovviamente, ma ci si scambiano messaggi quotidianamente in questo senso e la volontà è quella di portare avanti questo lavoro che è stato intrapreso. Perché troppe volte questa denominazione ha, il nostro territorio, ha subito gli sbagli dell'incominciare qualcosa e di non portarlo a termine. Perché o una parte o l'altra, o un pezzo di una parte si è diviso, si è staccato, non era d'accordo. Chiaro, ci va una grande capacità di condividere, di, diciamo, dialogare e di trovare un unicum sulla quale poi dopo lavorare. A proposito di lavoro, l'universo, l'arcipelago dei consorzi del vino piemontese a volte dà l'impressione di andare un po' di navigare a vista, ognuno fa le proprie cose, c'è Piemonte Land che è questo super consorzio che dovrebbe, armonizza naturalmente un po' di attività, ma l'impressione è che non si dovrebbe fare più squadra, non si dovrebbe fare più, più voce comune da questo punto di vista, sfondo una porta aperta. Diciamo che quello che stai dicendo è sicuramente corretto. Piemonte Land è un ente che è stato creato con l'obiettivo da parte dei consorzi di tutela e insomma con una certa volontà della regione di avere un ente che possa servire per la promozione del vino nei paesi terzi. Questo di fatto lo fa con le fiere, lo si faceva molto quando si potevano fare le fiere, ritorneremo a farle, quindi benvenga, parliamo di Provine, Wine Expo, ovviamente il Wine Italy giocando in casa, quindi sotto questo unico cappello c'era l'area diciamo piemontese delle varie aziende, a parte quelli che chiaramente si presentano con la propria marchio. Crediamo, credo che non sia soltanto più questo l'attività, non tanto di Piemonte Land, ma quello che dobbiamo fare è condividere su certi temi, lavorare un po' più insieme. Io condivido molto e credo molto nella Lang, nel Roere del Monferrato dell'UNESCO, quindi nel dare come messaggio al consumatore questo messaggio, cioè che ci sono le Lang, il Roere e il Monferrato che sono UNESCO. Questo un po' perché dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, oggi il Prosecco sta spingendo, sta lavorando molto su quello, loro hanno la fortuna di avere un unico nome, un unico prodotto declinato tra DOC e DOCG, ma di fatto stanno lavorando molto su quello, notizie di oggi che hanno avuto un nuovo direttore come il Consorzio del Prosecco Valdobbiadine, quindi della DOCG, hanno un nuovo direttore che sta lavorando, lavorerà, ha dichiarato molto sull'UNESCO, la stessa cosa sta facendo il Prosecco comunque DOC, anche se di fatto il territorio dell'UNESCO è quello del DOCG, non è quello della DOCG e noi che invece siamo tutto UNESCO dovremmo su questa cosa porci un po' più di attenzione, quindi oltre all'enoturismo, quindi al discorso dell'UNESCO sicuramente ci sono dei temi di carattere, di ricerca, di sviluppo in viticoltura e di neologia sulla quale il Piemonte insieme, unito, dovrebbe incominciare a parlare in modo unico e più che altro a parlare, più che a parlare anche a fare, quindi decidiamo cosa voler fare, ma facciamone due o tre, ma facciamone veramente insieme. Grazie. Grazie.